Mi sento truffato purtroppo da una banca del territorio che ha chiusi una delle prime filiali della provincia di Arezzo e i direttori sono sempre stati come i genitori, come i zii, come i nonni che si andava sulla fiducia. È stato il loro giorno, il giorno dei risparmiatori di banche truri azzerati a seguito del decreto Salva Banche del novembre 2015. Gli obbligazionisti subordinati che in una sola notte hanno perso i risparmi di una vita questa mattina sono stati infatti chiamati in aula per raccontare le loro storie in una nuova udienza del processo per truffa. Le deve succedere queste cose è stata una cosa che ha ferito un paese intero, oltre che una provincia, una città e la città di Arezzo. Sul banco degli imputati cinque funzionari ed una trentina tra dirigenti di filiale ed impiegati accusati a vario titolo di truffa e di istigazione alla truffa, secondo l'accusa all'interno dell'istituto di credito Aretino ci sarebbe stata infatti una vera e propria cabina di regia che vedeva funzionare in partire direttive ai vari dirigenti delle filiali che loro volta poi le mettevano in pratica. 12 in tutti i risparmiatori ascoltati questa mattina. Abbiamo assistito a testimonianze di persone alla soglia dei 90 anni con testimonianze appunto drammatiche sul fatto che avevano affidato i risparmi di una vita intera sostanzialmente alla banca su cui avevano una fiducia cieca. Alcuni risparmiatori infine hanno deciso di ritirare le querele presentate contro gli accusati. Nel frattempo infatti molti degli azzerati sono stati rimborsati all'80%, qualcuno inoltre ha vinto l'arbitrato. Cioè ho preferito a questo punto accontentarmi dei risparmi che ho ripreso, dei soldi che ho ripreso e non andare avanti. Anche se la cosa rimane perché rimane più che altro da un fatto morale oltre che economico perché questa cosa ha avuto delle conseguenze soprattutto in me anche un po' morali e dal punto di vista psicologico insomma sono stati due anni anche poco belli.